Anche questa volta, benvenuti o bentrovati all'interno di questo racconto, il racconto di marzo. Oggi siamo in procinto di ascoltare la pagina numero 15, la quindicesima delle confessioni, diciamo confessioni, della nostra protagonista, il suo orsacchiotto. Senza indugi, vi lascio alla pagina, buon ascolto e buona lettura. 3 aprile. Io lo avevo detto che me la pagava per quel pesce d'aprile, e oggi è successo. Sai orsacchiotto, sto scoprendo di me una ragazza che non avrei mai pensato. Forse l'essere una futura mamma ti fa leggermente maturare. Intanto i miei si sono stupiti del fatto che mi sia messa sullo studio. Anche io mi sono stupita. Non avrei mai pensato che avere un bambino in grembo fosse un fattore di avanzamento verso se stessi. Diciamo che mi sto volendo più bene, che cerco di migliorarmi in quello che posso fare. E poi ho cominciato a pretendere più affetto dal mio Francesco, che se continua di questo passo, tanto mio non sarà più. Ma forse è meglio che non dica queste cose. Dovrei crescere mio figlio da sola, forse senza i miei addosso darmi una mano. Comunque abbiamo litigato, secco, preciso, la prima volta. Ed è stata anche abbastanza importante, perché ho scoperto un Francesco di un immaturo tale che quasi il bambino me lo cresco da sola davvero. È per questo che voglio dare il meglio nello studio. Voglio che mio figlio, anche se non so il sesso, lo chiamo al maschile, ma non ti preoccupare creaturina mia, che ti vorrò bene anche se sei femmina, non ti preoccupare. Comunque voglio una mamma istruita per la mia creaturina. Vada per la par condicio. Non voglio che chi porto in grembo abbia una madre ignorante, per nulla. E poi voglio dare soddisfazione ai miei genitori, che vorrebbero tanto una figliola diplomata. E diamogliela una soddisfazione. Che ne dice Orsacchiotto? Che ne dici Creaturina? Ecco svelata l'ennesima conversazione con l'Orsacchiotto. Eccovi il mio grazie di essere ancora qua ad ascoltare le pagine del racconto di marzo. Ed eccovi il mio saluto per domani alla prossima pagina del racconto. Ciao ciao!